Ciao ragazzi! Sono qui per farvi un breve tutorial sull'accompagnamento di Wonderbit Rao Come si accompagna? Allora, vedremo un attimo il ritmo swing e soprattutto la posizione degli accordi Gli accordi in tutto il brano sono quattro, La minore Fa Mi settima e poi c'è un Sol qua Come riprenderemo? Per dare la possibilità a tutti di suonare in questo stile ho creato dei voicing semplicissimi Basta veramente poco Allora, per il La minore utilizzerò questo voicing, questa voce questa posizione metterò un mezzo barretto quindi il dito numero uno sul quinto tasto per le prime tre corde Farò pressione solo quando andrò ad agire sulle corde quindi non è stancante quindi per il La minore per quanto riguarda il Fa basta aggiungere il dito numero due sulla seconda corda un tasto dopo al sesso tasto ed ecco il nostro Fa Per quanto riguarda il Mi per renderlo semplice non utilizzo la settima che si rende così basta spostare indietro di un tasto la posizione del Fa quindi il mezzo barriero al quarto tasto e il due sul quinto tasto seconda corda eccolo qua il Mi poi per l'accordo di Sol utilizzerò sempre questa posizione quindi il Fa al quinto tasto il Mi al quarto il Sol al settimo tasto quindi vado al settimo tasto quindi mezzo barre prime tre corde dito numero due un tasto dopo subito un tasto seconda corda ecco qua questo è il Sol vediamo subito allora la prima battuta è tutta la minore sulle le mie quattro accenti scenderò si può fare in mille modi diversi però iniziamo con questa tecnica molto semplice quando scendo utilizzerò medio e anulare poggio il pollice sulla quarta corda così medio e anulare scendono faremo solo impattere prima battuta la minore la e seconda battuta abbiamo il Fa e poi il Mi settima non lo prenderemo settima per questioni di per leggerlo più semplice quindi prima battuta la 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 fa fa mi terza battuta la minore ancora la mi mi fo per la quarta battuta abbiamo un Mi per allevare un Mi mi un mi pausa sul battere e suona la seconda croma stiamo facendo swing immagichiamo una terzina dove suoniamo la prima e la terza nota quindi ta 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 allora quindi pausa di croma imbattere un sui allora il Mi in questo sulla quarta battuta preferirei prenderlo al settimo tasto ma va bene anche questo per chi non ci riesce al settimo tasto però con il dito numero tre due tasti dopo quindi il dito numero tre sta sul nono tasto sul nono tasto della seconda corda in questo modo così facciamo suonare la settima che è molto bella facciamo suonare la terza dell'accordo e ci teniamo questa punta che ci fa allora quindi un su due one two three four su giù 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 chiaro? su giù respiiamo facciamo qualcosa su quel battere battendo il piede a terra ma non suoniamo one two three four quindi ripetiamo queste prime quattro battute facendo solo imbattere tutte le semi minime solo alla quarta battuta faremo questo levare il levare lo faremo salendo con l'indice saliamo con l'indice un su giù 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 un giù giù chiaro? quindi one two three four one two three four one two three four eccetera eccetera le seconde quattro battute c'è la minore poi c'è sol quindi vado al settimo e aggiungo questo sol fa bri per due battute facciamo quindi le prime otto battute allora la minore one two three four one two three four terza battuta la minore levare la 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 so fa i one two three four one two three four e poi adesso prosegue più o meno nella stessa maniera adesso per esercitarci al ritmo swing come vedete quando sono in maniera casuale ci stanno dei levare un tatà che ci danno proprio il senso del ritmo swing per esercitarsi in questo quindi il levare lo faremo con l'indice all'insù si lo faremo completamente in mille modi diversi ho scelto questa questa tecnica per voi quindi facciamo questo levare l'equivalente di si scrive due crome croma croma e poi tutte seguono nella battuta laddove le crome non suoneranno come crome ma suoneranno più o meno vagamente come una terzina di crome suonando la prima e la terza quindi ta 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 più o meno quindi sul primo accento mettiamo il levare battere le levare gi 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 one two three four one levare mettiamolo sul secondo questo è un ottimo esercizio metronomo con un loop di batteria swing sul secondo accento quindi sarà giù giù su giù 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 su giù giù pronti one two three four one two three four one two three four one two three proviamolo sul terzo accento quindi facciamo le prime otto battute quindi sul terzo sarà one two three four giù 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 perché suona rustica elettrica può usare il plettro per chi fa la classica suona classica vi consiglio questa per inizio ci sono mille modi diversi per farlo quindi sul terzo accento one two one two three four one two this one two three four one two three four ancora due this four one this this adesso proviamo sul quarto accento one two one two three four one two three four one two three four one two three four queste sono le voci in base per dare la possibilità anche a chi studia da pochi mesi di realizzare questo accompagnamento e questo raggiamento buon lavoro a tutti